Ben trovati al consueto appuntamento con informazione di Telebari e Radio Bari in studio Silvia De Sandi, la maratona delle idee digitali appena partita, vediamo cosa sta accadendo nella seconda giornata di Digiton, la sta seguendo per noi Isabella Battista Siamo nella seconda giornata del Digiton, le vecchie segherie Mastro Totaro di Bicelli e adesso stiamo entrando nel vivo della manifestazione con l'Hackathon ossia la presentazione di 100 progetti da parte di 300 inventori italiani che proporranno le proprie idee e una di queste vincerà un premio di 10.000 euro domenica mattina Oggi si è parlato soprattutto di innovazione digitale da parte degli investitori e da parte di chi vive il mondo della tecnologia 4.0 Abbiamo intervistato in proposito Andrea Pezzi L'importanza è culturale dal mio punto di vista, poi per i ragazzi sono più di 100 oggi, so che si incontrano, si confrontano e hanno modo di capire, iniziare magari in alcuni casi capire qual è il percorso che deve fare un imprenditore per riuscire ad avere successo questo ha a che fare con le micro storie dei piccoli imprenditori che sono presenti oggi quindi è una duplice valenza, una culturale per il paese, per il sistema, ovviamente per il meridione e l'altra invece individuale per i 100 ragazzi che sono qua a colloquio con quelli che possono fare la differenza nella loro vita Barletta ha colto la prima giornata della maratona delle idee digitali dopo la presentazione di Francesco Boccia, fondatore e presidente di Digiton sul palco si sono avvicendati gli ospiti che hanno raccontato l'esperienza della comunicazione nell'era 4.0 ai nostri microfoni fedele con Fallonieri, presidente Mediaset, che si è confrontato con Lucia Annunziata direttore affitto a un post Italia nel dialogo giurastici o postmoderni Quale sarà il futuro della televisione? Deve continuare la televisione a fare quello che sa fare, naturalmente anche sui nuovi mezzi anche sullo smartphone, sui vari device, perché questo è possibile quindi una televisione in mobilità, una televisione che faccia tesoro però anche di quello che è l'internet quindi la velocità, la rapidità è naturalmente del target cioè chi sono i giovani se la vedono la televisione, se vedono una televisione televisiva la vedono sul loro device e quindi tu devi portargliela a casa e fare naturalmente un prodotto che sia appetito da loro Si registrano anche in Puglia reazioni dopo il risultato del referendum per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea da un'indagine del Centro Studi di Confartigianato in Prese Puglia i prodotti pugliesi nel mercato britannico fruttano più di 200 milioni di euro di cui 146 costituiscono il valore dei beni esportati dalle aziende della provincia di Bari il Brexit lascia dunque presagire riflessi negativi per l'economia della nostra regione il rischio, sottolinea il presidente di Confartigianato Puglia Francesco Sgerza è quello di tornare indietro di decenni passando da una situazione di libera circolazione di merci e lavoratori ad una chiusura dei mercati E' il giorno di Cosmo Giancaspro alle 17 allo stadio San Nicola la presentazione ufficiale del nuovo presidente del Bari Il servizio Ancora poche ore si alzerà il sipario sul nuovo Bari di Cosmo Giancaspro ma da ieri il nuovo presidente è impegnato in una corsa contro il tempo per mettere in sicurezza il club in attesa di capire se sarà affiancato da nuovi investitori entro oggi dovrà versare circa 2,2 milioni di euro per il pagamento degli stipendi poi provvedere alla fideiussione da 800 mila euro per l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie B ma di pari passo dovrà prendere forma anche il progetto tecnico in primis la scelta di un direttore sportivo individuato in guido Angelozzi ma l'ex dirigente Biancorosso è legato ancora da un anno di contratto con il Sassuolo e in giornata potrebbe declinare l'offerta resta in piedi l'ipotesi Piero Doronzo ex segretario del Bari dallo scorso anno di S dell'Andre uomo di fiducia dello stesso Angelozzi strade alternative portano a Pierpaolo Marino e Daniele Faggiano al nuovo di S toccherà poi la scelta dell'allenatore con Angelozzi prenderebbe quota l'ipotesi Sannino senza dimenticare il nome di Roberto Stellone capitolo giocatori ieri Lentella ha esercitato il diritto di riscatto per Ciccio Caputo e intanto Giancaspro dovrà decidere se esercitare l'opzione con il Catania per Rosina in scadenza il prossimo 30 giugno e seguiremo la presentazione del nuovo presidente del Bari Cosmo Giancaspro in diretta su Telebari e in streaming sul nostro sito internet a partire dalle ore 17 la Guardia di Finanza compie 242 anni in occasione dell'anniversario le fiamme gialle della regione Puglia hanno celebrato la ricorrenza con una cerimonia nella caserma Giovanni Macchi il comandante regionale generale di corpo d'armata Giuseppe Bicanolo ha illustrato i risultati dell'attività operativa di tutti i reparti dipendenti dal comando pugliese sono state inoltre consegnate ricompense di ordine morale nei confronti dei militari che si sono particolarmente distinti nelle attività di servizio Sanità, il Ministero della Salute ha dato l'ok al piano di riordino programmato dalla regione Puglia molti però i dubbi che permangono i dettagli nel servizio di Roberto Maggi un ok con riserva che lascia interrogativi aperti sul futuro della sanità pugliese il Ministero della Salute dà il tanto atteso via libera al piano di riordino della rete ospedaliera un assenso tuttavia condizionato da alcune riserve che dovranno sciogliersi nei prossimi mesi innanzitutto la chiusura ulteriore di circa 50 reparti che si aggiungerebbero a quelli già previsti dal piano pugliese è bene ricordare infatti che la scure di Giovanni Gorgoni direttore del Dipartimento per la Salute non ha colpito solo gli otto ospedali ma ha attuato una significativa e in alcuni casi controversa razionalizzazione dei reparti vedi ad esempio la chiusura della neurochirurgia del di Venere in base alle indicazioni nel Ministero l'intervento potrebbe estendersi ulteriormente altro nodo da sciogliere è quello degli otto pronto soccorso che si trasformeranno in punti di primo intervento territoriale tradotto in soldoni passeranno totalmente sotto il controllo del 118 soprattutto per quanto concerne la gestione del personale l'assunzione di medici in regime convenzionato l'affidamento ad onlus esterne servirà così ad aggirare i blocchi alle assunzioni delle strutture direttamente gestite dagli ospedali in questo contesto il Ministro impone che entro la fine del 2017 anche i 22 PPI istituiti da vendola passino sotto il controllo del 118 critiche le opposizioni per Ignazio Zullo conservatori e riformisti il piano continua a non essere supportato da nessuna valutazione di sostenibilità economico-finanziaria mentre Mario Conca 5 Stelle afferma avevamo già indicato la strada tre mesi fa con la nostra proposta di legge rimasta inascoltata è prevista sicuramente la chiusura di altri reparti e naturalmente andiamo sempre più ormai è chiaro verso una sanità privata perché si continua secondo me senza un minimo di criterio a tagliare reparti e a non sostituire il personale per tempo anche per cose che si sanno da tempo come l'estate naturalmente quando paradossalmente sembra che arrivi così tra capo e collo e ci ritroviamo senza personale perché non hanno pensato per tempo di bandire i concorsi a gennaio e li fanno a giugno Riprenderanno lunedì i lavori sul ponte in via Divagno a partire dal prossimo 27 giugno infatti il ponte Garibaldi sarà chiuso al traffico nel senso di marcia da via Procezzi a lungomare il tempo necessario ad ultimare l'intervento è stimato in due settimane l'AMTAB ha stabilito che sino al termine dei lavori i bus delle linee 2 2 Barrato 10, 14 e 25 effettueranno una serie di variazioni di percorso Imprese e gestione dei rifiuti un rapporto non sempre facile condizionato da norme e costi di gestione Confindustria Bari e Batteni ha discusso con Conai in un seminario di aggiornamento i dettagli nel servizio Gestire correttamente i rifiuti e ottimizzare la spesa di smaltimento una necessità che preoccupa il comune cittadino e ancor più il mondo delle imprese soprattutto dopo le nuove indicazioni introdotte dalla legge 125 del 2015 che modifica i criteri in termini di responsabilità individuazione e classificazione dei rifiuti un esempio su tutti i rifiuti pericolosi che possono avere un notevole impatto sull'ambiente come sull'incidenza dei costi di gestione la norma del 2015 ha allargato la classificazione ad ulteriori categorie di rifiuti arrivando a costare all'azienda anche 10 volte in più rispetto al passato il ruolo di Confindustria che insieme a Conai ha organizzato a Bari un seminario di aggiornamento sul tema deve essere proprio quello di promuovere una cultura ambientale e al contempo aiutare le imprese a interpretare correttamente le disposizioni di legge un percorso già intrapreso da tempo spiega Giuseppe D'Alena delegato all'ambiente per Confindustria Bari e Bat il sistema ambientale è un sistema complesso fatto e costruito su norme talvolta anche inapplicabili inapplicabili è comunque è un terremoto normativo a quale le imprese sono sottoposte e noi vogliamo quindi iniziare questo percorso di informazione e di formazione una voce importante per le aziende riguarda poi gli imballaggi nell'ultimo anno sono ben 12 milioni le tonnellate messe al consumo in Italia di cui 9 milioni sono state regolarmente destinate a recupero dal 1998 anno in cui è stato costituito il consorzio Conai la percentuale è salita dal 30 al 70% sebbene afferma Maurizio Salvo di Conai sia ancora importante lavorare su quelle imprese che non rispettano l'obbligo di versare il contributo ambientale il Conai mi sforzo sempre di dirlo è uno strumento che hanno a disposizione le aziende per ottemperare gli obblighi di legge nel senso che la normativa impone alle aziende la responsabilità della corretta gestione dei rifiuti di imballaggi dalle stesse aziende immesse al consumo sul territorio nazionale Appuntamento domani all'alba alle 4.30 per 5 alle 5 Bari manifestazione podistica mattiniera aperta a tutti i cittadini l'evento è patrocinato dall'assessorato allo sport del comune di Bari partenza e arrivo in piazza Diaz per un percorso che si articolerà per 5 km al momento si sono registrati circa 500 partecipanti tra i quali l'assessore comunale allo sport Pietro Petruzzelli oggi pomeriggio alle 15.30 torna allo spazio dedicato ai cittadini con la trasmissione Chiama De Caro condotta da Alessandra Bucci in diretta con noi il sindaco De Caro per intervenire potrete chiamare il numero 080 501 9998 e come già annunciato non perdetevi la presentazione del nuovo presidente del Bari Cosmo Giancaspro che seguiremo in diretta su Telebari e in streaming sul nostro sito a partire dalle ore 17 prima di lasciarvi vi ricordo che l'informazione di Telebari non termina qui ma prosegue sul nostro sito www.telebari.it vi lascio al meteo amici tre bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì che anche in Europa sarà calda soprattutto nei settori centro-meridionali del continente guardate a Berlino previsto una massima di 33 gradi eppure in Italia temperature elevate il tempo infatti resta bello solo qualche nuvole e brevi acquazioni nelle zone interne del sud ma da noi molto caldo temperature che toccheranno anche i 35 e 36 gradi al sud qualche breve temporale sull'Appennino meridionale sull'Alta Calabria Tireneca e anche tra Basso Lazio e Alta Campania con questo è tutto per dettagli vi aspettiamo su trebimeteo.com perYesulo vi aspettiamo sui a attendersi